Oggi signori doppio appuntamento, doppio appuntamento anche il giorno e il compleanno, tanto sono a casa quindi nessun problema. Allora voglio innanzitutto spendere questi pochi istanti prima di iniziare il video per ringraziare tutti i ragazzi che su tutti i social network hanno dedicato anche solo un attimo, un secondo, 10 secondi di attenzione a questo evento. Quindi vi ringrazio, siete stati carinissimi, l'anno scorso mi dava molto noia passare dai 29 ai 30, quest'anno ai 30 e 31 mi sono tolto il dente l'anno scorso, non c'è nessun tipo di problema, sono molto molto sereno, so che si sta andando verso un'età abbastanza importante e non ci sono problemi. E dato che comunque spesso e volentieri leggiamo sui social network proprio commenti inerenti ai giocatori che superano i 30 anni, io stesso tante volte vi dico se devo fare un certo tipo di investimento per un calciatore sopra i 30 anni, certo tipo di investimento intendo sia ingaggio che cartellino, ci penso non una, non due, non tre, ma dieci volte. Proprio perché negli ultimi anni la Juventus si è ritrovata in condizioni di difficoltà proprio per questo motivo qua, o aveva un grande costo di ammortamento del cartellino rimanente con un calciatore che si avvicinava comunque ai 30 anni. Per esempio il caso di Higuain, lo ricorderete, è stato ceduto in prestito al Milan e al Chelsea nella stessa annata a distanza di sei mesi, 9 milioni per un prestito, 9 milioni per l'altro perché l'ammortamento era di 18 milioni, poi torna la Juventus e dopo il ritorno alla Juventus Higuain viene svincolato con la Juventus che fa minus valenza di questi 18 milioni perché? Perché aveva acquistato un calciatore a un'età abbastanza importante e pian piano che passavano le stagioni Higuain diventava sempre meno appetibile sul mercato e sempre meno squadre erano disposte ad investire sul buon Gonzalo che è e rimane uno dei calciatori che mi ha dato più emozioni in assoluto in questo percorso degli scudetti della Juventus, in questo percorso, anche dei percorsi in Champions, non dimentichiamoci la finale di Champions League giocata al primo anno a Torino. Oppure ci sono casi come quello degli ingaggi, cartellini, un conto, ingaggi, un altro, banalmente, Alessandro banalmente, Bonucci banalmente, tantissimi, Pogba in questo momento anche Pogba, anche salde credo crescita, quindi giocatori che superano una certa annata e giocatori che per via di questa cosa limitano per forza il mercato della Juve. Questo è il motivo per cui vi ho detto tante volte Romelu Lukaku mi darebbe un po' noia, a maggior ragione sacrificando Dujan Vlaovic, poi oggi ho fatto un video in cui vi parlavo del perché probabilmente Lukaku più Vlaovic dal punto di vista tecnico avrebbe pure un senso, dal punto di vista economico lo reputo abbastanza una follia. Ma vi lascio il video qui sopra nelle schede, l'ultimo video caricato prima di questo, magari l'avete già visto, magari no e quindi vi riporto assolutamente lì. Però ragazzi cerchiamo di parlare di quello che nel concreto si sta sviluppando per la Juventus. Perché? Perché la Juventus sta cercando di affondare un colpo ed è il nome che stiamo facendo ormai da qualche giorno, da una settimana. Dovevano incontrarsi le due dirigenze proprio qualche giorno fa in occasione di una partita che poi non si è disputata tra Juventus e Bargellona. E stiamo parlando ovviamente di Frank, che sì, giocatore che l'anno scorso giocava in Serie A col Milan, ha vinto lo scudetto, non nell'ultimo campionato disputato, ma bensì in quello prima ed è stato determinante per lo scudetto, è stato uno dei cardini del Milan scudettato, è stato uno dei cardini del Milan in generale anche senza lo scudetto perché è stato un giocatore molto importante che la Serie A la conosce veramente bene. Tra l'altro quel collegamento con Bonucci, la maglia numero 19, l'annata di Bonucci al Milan, andrebbe a ritrovare Bonucci ma da fuori rosa? Alla Juventus quello che è stato il suo capitano? Quello a cui ha lasciato la maglia numero 19 per andare sulla 79? Sono un po' di incastere del destino che mi fa sempre piacere ricordare perché sono tutte curiosità. Secondo me queste cose contribuiscono anche a rendere un po' più piacevole l'avventura di seguire una squadra di calcio, una competizione, un campionato come può essere la Serie A. Però dicevo qualche giorno fa che sì, non è uno dei primi dieci centrocampisti che andrei a prendere, assolutamente no. È un giocatore che in Serie A fa la differenza, così come l'ha fatta Lukaku, in qualche altro campionato e magari in qualche squadra differente, come il Barcellona che ha un gioco completamente diverso, una filosofia completamente diversa da quella del Milan, non ha trovato grande fortuna. Però se dalla parte di Lukaku vi dico è un investimento che ci penserei un pochino prima di fare, beh che sia un giocatore sicuramente più giovane. Dovrebbe essere un classe 95 se non vado errato, quindi stiamo parlando comunque di un giocatore non vecchissimo, nemmeno giovanissimo, un giocatore nel fior fior degli anni di carriera, ma soprattutto la formula con la quale la Juventus starebbe cercando di chiudere Chessy la trovo molto interessante, perché si parla comunque di un prestito secco, secco nel senso che non ci dovrebbero essere dei milioni per il prestito, in cui poi la Juventus avrà il diritto di riscatto, il diritto di riscattare le prestazioni sportive di Frank Chessy per una cifra che balla tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per intenderci, un'operazione molto simile a quella che l'anno scorso ha portato Paredes dal PSG alla Juve. Io l'anno scorso ero contro l'arrivo di Paredes, non avrei preso Paredes, avrei trattenuto Rovella. Quest'anno c'era fare una valutazione su che sì, molto molto importante, perché Arthur è partito, McKennie abbiamo visto che è rimasto in questo momento, ma anche lui non è al 100% e forse anche questo è uno dei motivi per cui è stato aggregato, e cioè cercare di migliorare la condizione fisica del giocatore per poi cederlo, perché se poi non passa la visita emettica è un problema. Zaccaria, sappiamo che questa trattativa con il West Ham è sempre lì e soprattutto sappiamo che Pogba oggi è un calciatore sul quale la Juve non può fare affidamento. Lo stesso Allegri proprio ieri ci diceva che tra un mese, tra un mese Pogba valuteremo se potrà essere aggregato alla prima squadra. Sì, ma tra un mese e il 25 agosto abbiamo già giocato la prima di campionato, ci stiamo preparando per la seconda. Quindi Pogba oggi è un giocatore che la Juventus non può contare, la Juventus non può fare affidamento su Paul Pogba. Purtroppo, dicevo anche l'altro giorno, il Pogba che conoscevamo, quello che ci siamo goduti, quello che ci ha fatto sognare nel primo ciclo della Juventus, è un giocatore morto, perché oggi Pogba quelle garanzie dal punto di vista fisico non te le può dare. Dal punto di vista tecnico la magia rimane, perché il calciatore comunque le sa fare quelle robe lì. Però non dobbiamo illuderci, anzi dobbiamo mantenere un profilo veramente basso su Pogba. E il fatto che ci sia questa accelerata improvvisa, perché sì, va in quella direzione lì. Però ribadisco, ma cerchiamo di capire come verrà poi ufficialmente posizionato il centrocampo bianconero. Perché? Perché secondo me che sì, verrà messo davanti alla difesa. Per me che sì, verrà messo davanti alla difesa. E quindi andrà a prendere quello che è il posto da titolare di Locatelli. Rabiot è un titolare, lo sappiamo, rinnovato di un solo anno. E poi quindi mezzala a destra, ci libera un posto, Fagioli o Locatelli. Poi ci sono altri giocatori. Perché? Perché c'è Rovella, perché? Perché c'è Miretti. E allora io dico, secondo me la Juventus per come sta cercando di organizzare il centrocampo, senza ovviamente contare Pogba in questo momento, e partendo dal presupposto che Arturo è già uscito, Zaccaria uscirà, McKennie uscirà, ci dovrà essere un altro giocatore a lasciare il posto a McKennie. Proprio dal punto di vista numerico. E secondo me, se ragioniamo sulla riga di avere Rovella, Fagioli e Miretti, è un po' troppo. Perché? Perché non puoi arrivare a valorizzare tutti e tre dei calciatori così giovani se a centrocampo c'hai pure Rabiot, che sì, e Locatelli. E Pogba! Quindi mi viene a pensare che uno di questi tre almeno dovrà uscire. Un po' come l'anno scorso è stato il presupposto. Esce Zaccaria. Bene, allora si può valorizzare Fagioli? Questa era stata la mia sensazione, la mia emozione, il mio desiderio anche il giorno che si conclude il calcio mercato alla Juventus e la Juventus conclude la sessione a Zaccaria. Dicevo, beh, la trovo bizzarra come operazione arrivato sei mesi fa. Un giocatore che comunque Allegri ha sempre fatto giocare quando ce l'ha avuto a disposizione. L'unica cosa positiva è vedremo se Fagioli verrà valorizzato. E questo è stato. Quindi, che si arriva? Fa da tappa buchi, un po', anche banalmente, alle condizioni fisiche di Pogba. E si va a prendere quel posto da titolare, probabilmente davanti alla difesa, secondo me, per come sta ragionando in questo momento Massimiliano Allegri. E la Juventus poi però deve fare dei ragionamenti sulle uscite. Rovella, l'otterrei, mi piacerebbe provare a vederlo un anno alla Juve e vedere come gira. L'altro giorno Miretti ha rinnovato il contratto, fino al 2027, fa una partenza in prestito, secondo me è assolutamente preventivabile. Quindi, che si in prestito con diritto di riscatto a 10-15 milioni potrebbe essere l'operazione giusta, anche perché è un giocatore che in questo momento non ha il posto da titolare assicurato a Barcellona, anzi, a centrocampo hanno ben altri piani, e la Juventus si ritroverebbe ad avere un centrocampo abbastanza ben assortito.